Il percorso museale si snoda attorno al chiostro di San Simeone. Nel secondo corridoio potrete trovare una serie di stanze dedicate alla società rurale, quindi agli antichi mestieri di una volta, piuttosto che ad attività prettamente di genere, quindi maschili e femminili, proprio come in questa stanza dove troviamo oggetti diversi di abbigliamento e oggetti personali. Ma al centro di questo ambiente troviamo il telaio. Il telaio veniva montato nei mesi invernali e collocato in cucina, che era l'ambiente più caldo della casa, in inverno perché il lavoro nei campi era a riposo. Quindi si filavano e si tessevano al telaio le fibre seminate e raccolte durante l'anno precedente e quindi prevalentemente la canapa nei nostri territori e il lino. Con questi filati si tessevano la biancheria per la casa e per l'abbigliamento personale. Come vedete alle mie spalle c'è una serie di filati di canapa di diverso colore e anche di diversa lavorazione. Siamo in un'aula scolastica di fino a 800. Si tratta dell'unico ambiente ricostruito qui al museo ed è stato riproposto proprio perché gli ambienti del museo, fino agli anni 60, ospitarono le scuole medie ed elementari del comune di San Benedetto Po. Quindi si tratta di una riproposizione filologica in questo caso. Un tuffo nel passato quindi con i banchi a diverse altezze a seconda dell'età degli studenti, la cattedra su una predella rialzata e le vecchie cartine geografiche. In fondo alla stanza troverete anche un tavolo da mensa per la scuola dell'infanzia. Se vi avvicinate un pochettino alla cattedra sentirete il profumo dell'inchiostro che arriva da questo contenitore utilizzato dal maestro per rimettere l'inchiostro nei calamai dei singoli alunni. Nella stanza c'è anche una stufa, veniva alimentata direttamente dalla legna che gli alunni portavano proprio per contribuire al riscaldamento della classe. Girando l'angolo, l'ultimo corridoio del museo è dedicato alla cultura immateriale, quindi a tutte quelle tradizioni, credenze, usanze che vengono trasmesse in maniera orale e che quindi non si possono documentare se non con video o registrazioni audio. Questa è la stanza che noi del museo chiamiamo la soffitta. L'abbiamo allestita proprio come se ci trovassimo di fatto in un sottotetto dove trovano collocazione tutta una serie di oggetti in disuso. Ecco, quindi una soffitta contemporanea e quindi vedete soprattutto materiali utilizzati dai teatranti, dai girovaghi, dai burattinai che appunto viaggiavano con i loro materiali e andavano nelle piazze in occasione delle sagre e delle fiere e portavano i loro spettacoli di musica o di teatro di figura. Vicino a me c'è anche un gioco da osteria, il gioco della rana. Ecco, tutti questi luoghi di aggregazione pian pianino o persone ecco che aggregavano la gente nelle piazze, pian piano sono stati soppiantati ahimè dall'arrivo della televisione, ecco che ha riportato e tenuto le persone nelle proprie abitazioni e quindi forse si è persa anche un po' di socialità che adesso si cerca di recuperare con manifestazioni di piazza. Nel caso del nostro museo ecco noi curiamo tutti gli anni il festival La Fiuma, un festival proprio di teatro di figura popolare con l'intento di riportare nelle piazze queste antiche tradizioni. Le ultime stanze del museo sono dedicate ai personaggi della storia locale. Ci troviamo nella stanza di Matilde, quindi la gran contessa benefattrice di questo monastero, una figura femminile che ancora adesso viene valorizzata con eventi, manifestazioni, ma anche con tutta una serie di oggetti o materiali e prodotti enogastronomici che ci siamo divertiti a raccogliere in questa stanza. Come vedete ci sono anche i bozzetti di una serie di foulard che insieme a questo abito sono stati realizzati proprio in occasione del cinquecentenario della morte di Matilde di Canossa nel 2015. Il percorso museale però prosegue nelle cantine cinquecentesche del monastero dove è esposta la collezione di oggetti archeologici e quella di carri agricoli del museo. Buona visita e vi aspettiamo a San Benedetto Po. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.